Tu qui sul palcoscenico del Piccolo Teatro sei passato qualche anno fa, nel 1968, e che cosa è successo nel 1968 nel palcoscenico che c'è di sotto? È successo che un po' sfrontatamente e un po' provocatoriamente avevo imbastito insieme con Raffaele Maiello, il regista, uno spettacolo che chiamava Visita alla prova dell'Isola Purpura di Milcail Bulgaco. Avevo spaccato la commedia in cinque punti facendo entrare in teatro otto giovani attori che negli allievi del Piccolo di quell'anno, che prima riscrivevano lo spazio del Piccolo, proprio con delle lettere, grandi lettere bianche, che venivano attaccate su tutte le pareti. E poi piano piano smontavano il teatro e la magnifica scena di Frigerio veniva pezzo pezzo portata via. Alla fine tre attori principali, Schirinzi, Santa Flores e Reggi, in un dialogo dicevano qui è tutto finito, bisogna andare da un'altra parte, qui è tutto finito. Si riferivano alla rivoluzione e bisogna andare da un'altra parte, bisogna cercare altri spazi e quindi sono andato. Quindi era un tema caldo, aveva a che vedere con la rivoluzione, le speranze della rivoluzione e le speranze tradite della rivoluzione. E ovviamente fu uno spettacolo che suscitò delle reazioni abbastanza calorose in qualche modo. Devo dire che la discussione era furente all'interno della sinistra nuova e vecchia e avevamo delle grosse difficoltà. Riuscimmo ad andare in scena perché, d'accordo con il regista Maiello, io dissi che non bisognava far vedere alla direzione del teatro gli interventi, se no ci avrebbero bloccato lo spettacolo. Il grande Paolo Grassi vide lo spettacolo solo o all'anteprima o alla prima e mi chiamò furente dicendo che non poteva andare. Ma ormai era in scena, ormai era stato visto. Fui attaccato molto duramente, mi difesero i giornali stranieri e solo tre giornali italiani. Lo spettacolo era molto bello, divertentissimo, il pubblico si divertiva. Giuliano Scabbia è un protagonista dell'avanguardia teatrale che nasce in quegli anni, va al convegno di Ivrea nel 67 ed è uno dei protagonisti. Sono dei suoi testi molto belli e molto profetici su quello che sarebbe stato il nuovo teatro a venire. Che cosa fa Giuliano Scabbia a quel punto? Sostanzialmente esce dai teatri, esce dalle sale teatrali tradizionali, esce dal mondo del teatro tradizionale. È stata una decisione consapevole e cosciente o ti sei sentito un po' cacciato fuori? Soffrivano delle occasioni, si presentavano delle occasioni. Un giorno in Vaporetto a Venezia trovo Cesare Molinari che insegnava a Parma, sarà stato il 71, 70, 70. Senti, verresti a fare un'esperienza in un paese vicino a Parma, che esperienza? Ma in una scuola fare un modello? Ma proviamo. Ecco, allora ho fatto un modello di lavoro, di tempo pieno in una classe di scuola media, che si chiama 14 azioni per 14 giorni, che è stato per me molto formativo, ho imparato tanto. Perché tu a quel punto cominci a insegnare una disciplina che stava nascendo, che si chiama animazione teatrale. No, si chiamava drammaturgia. Drammaturgia era. No, no. Ma io sono stato ingaggiato un po' come i calciatori, perché il Damm si hanno un po' incomprati, no? Io stavo su Monte Velino, vestito da cavaliere, combattevo contro il drago, dopo aver costruito l'ennesima città. L'ho fatto col teatro vagante, diverse città dell'Abruzzo, Monte Velino in Abruzzo, un paese bellissimo. E alla fine, stavo tre giorni in ogni luogo, costruivamo una città con i ragazzi, noi chiamavamo, venite, gli davo tutta la roba, costruivamo questa città. Stavamo lì, stappavamo il giornale, facevamo i burattini, le improvvisazioni. Così il terzo giorno, a seconda di come era andata, tiravo fuori il drago, che aveva, il viso era un teatrino, i denti erano i burattini costruiti dai ragazzi. E a seconda di come si era formata la comunità dei ragazzi, compariva il cavaliere, ero io. Mentre stavo duellando sul Monte Velino, lì con questi ragazzi, arriva il messo comunale, dice, c'è una telefonata per lei in comune. Dico, mi lasci finire la battaglia con il drago, finiamo così, e poi vado e dice, guardi, c'è un certo squarzina che ha telefonato da Bologna. Allora mi ha lasciato questo numero, se lo vuol chiamare. Allora ho chiamato, ah, ciao, cosa vuoi? Senti, verreste a insegnare al Dams? Ecco, sono stato comprato così. Ho preso l'università come un luogo da attraversare teatralmente, l'ho preso come se fosse proprio un teatro.